ciao a tutti bentornati nel mio canale allora anche oggi come i vari primi del mese vi mostro un video creazioni quindi mi mostro un po quello che ho combinato durante il mese anche se non è tantissimo più che altro i vari tutorial e poi qualcos'altro come sempre trovate appunto un tutorial alla settimana cerco sempre comunque di farlo quindi quattro tutorial in tutto il mese allora il primo tutorial che ho pubblicato è stato quello di questo bracciale che si chiama blue moon i componenti sono in acciaio quindi anellini moschettone ed è composto da due moduli uno più piccolo uno più grande che poi appunto vanno alternati ed uniti e devo dire che il risultato mi piace un sacco perché comunque ha materiali semplici non è di complicato ne ha di tanti tipi quello sì però sono semplici quindi a 6 per 4 i cipollotti 3 per 4 i bicono da 4 mm le perle da 4 mm 11 0 15 0 super duo stop quindi comunque tanti però materiali che abbiamo tutti quindi comunque è facile e facile anche appunto da realizzare niente comunque mi piace un sacco sono soddisfatta del risultato sinceramente ok poi il secondo tutorial che vi ho pubblicato è stato quello di questa collana aspettate che io ho già messo i prezzi copro allora che appunto la collana la collana che doveva essere una sfera perlomeno io volevo creare una sfera e invece poi è nata questo questo componente non so neanche come chiamarlo che però comunque mi è piaciuto un sacco ed è piaciuto anche a voi nei vari gruppi su facebook e quindi niente alla fine l'ho tenuta mi avete consigliato di in tante montarla in questo modo e qui appunto ho alternato i cipollotti 3 per 4 e 6 per 4 così che riprendessero un po i colori alternandoli con la catena poi invece qui verso la fine ho inserito questa sferetta che è di rosaria prete lo trovate tra i suoi tutorial gratuiti nel suo profilo e questa è quella piccolina mi piace un sacco infatti è carina così come pendentino come finale di una collana questo però in realtà era il prototipo del tutorial il tutorial in realtà l'ho realizzato con questa che ho appunto replicato non vi ho detto che dentro ci sono le sfrette in legno due una praticamente il modulo è unico nel senso che lavoriamo prima su un pezzo sulla metà praticamente con la sfera dentro e poi riniziamo da capo facendo l'altra metà con un'altra sfera dentro e niente questo invece come molte altre invece mi hanno detto l'ho montato così come pendentino su una semplice catena argento eccola qui e poi qui sul finale ho attaccato questa farfallina e devo dire che anche così come pendentino che cade sotto il seno è molto molto carino poi che cosa abbiamo fatto abbiamo realizzato anche questi recchini che mi piacciono tantissimo questi proprio belli 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 non mi piace proprio la forma come sono venuti che hanno questo spazio qui vuoto e poi le kite che restano così dicevo e li ho realizzati con questi rivoli da 14 mm e niente poi ci ho messo questi perni così per allungarli un pochino e devo dire veramente che mi piacciono un sacco come come restano anche belli compatti e qui sul finale appunto poi ho chiuso bene in rivoli comunque lo vedete tutto questo lo vedrete nel tutorial e niente e quindi anche questi come sempre non ho detto il nome manco di questi e manco della della sfera la sfera era la sfera poison che non è una sfera io mi ostino a chiamarla così appunto poison questi invece sono gli orecchini miranda eccoli qua poi ho realizzato il ciondolo dafne lo dico per primo altrimenti non mi ricordo che è appunto un un ciondolo non complicato da realizzare però ci sono tanti tanti passaggi da fare anche di questo punto trovate il tutorial questo è il retro che ho appunto ancorato a tutto l'orecchio al tutto il ciondolo e niente a un po di materiali anche questo però comunque risultato mi piace un sacco e anche questa una forma un po così diversa dal solito ho attaccato questa catena color oro e basta questo era il ciondolo dafne poi al di fuori dei tutorial ho realizzato questo braccialino tubolare con la tecnica appunto tubolare che devo dire mi è piaciuto tanto e soprattutto mi sono divertita tanto a realizzarlo perché comunque appunto a questa lavorazione così a spirale e devo dire che è bellina da fare sì è divertente e quindi poi magari lo realizzerò anche in qualche altro colore per adesso l'ho realizzato così comunque molto carino una volta anche indossato scusate vi arriva un flash che sarebbe la tenda come si muove e niente comunque è molto carino da realizzare poi ho fatto mi sa che dovrò spostare la tenda eccoci qui e vi dicevo realizzato poi questi orecchini che sono un progetto di melissa campagnolo moon rose creation e sono gli orecchini charlotte che mi piacciono un sacco mi sono piaciuti fin da subito e quindi li ho voluti realizzare sono veramente belli allora lei fa dei progetti bellissimi e non lo sto dicendo tanto per dire cioè io quando faccio un complimento lo faccio davvero sentito altrimenti sto zitta e quindi mi sono piaciuti da subito perché lei comunque riesce a realizzare dei lavori fatti anche con materiali semplici però devo dire davvero d'effetto belli non c'è senza incastonature senza arrivoli eccetera con materiali semplicissimi che abbiamo tutte in casa è però guardate il risultato cioè sono troppo belli e quindi appunto penso che li rifarò anche in altri colori perché sono veramente belli facili e veloci quindi è la perfezione per me questo quando l'orechino è veloce anche da realizzare è perfetto poi infine ho realizzato uno schema che appunto come sapete io non ho più negozio ezi e quindi se lo volete mi dovete contattare privatamente comunque trovate tutti i miei dati diciamo così nell'info box sia la mail sia come mi trovate su facebook eccetera eccetera e quindi se volete appunto potete contattarmi così e niente e questa appunto è la spilla rugiada che mi avete suggerito di chiamarla così perché io ho chiesto di darmi qualche suggerimento per il nome e me ne avete scritti tanti però rugiada è quello che mi ha colpito di più e quindi eccola qui nata la mia spilla che era la prima volta anche che facevo una spilla quindi mi sono voluta cimentare così in una cosa nuova avevo questa base da tempo e ho detto ma si ora proviamo a realizzarla poi prendendo altre basi magari farò anche qualche tutorial gratuito sul canale ora vediamo e niente questo quindi lo trovate come schema e basta abbiamo terminato quindi io vi mando un bacio mi raccomando come sempre peace and love e ci vediamo al prossimo video ciao